Io studio, carta dello studente, cos'è e come richiederla. Io studio, la carta dello studente, è una carta nominativa che consente di attestare lo status di studente in Italia e all'estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto. La carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. La carta è integrata con servizi digitali e, grazie alla collaborazione con poste italiane, può essere attivata anche come carta post-pay nominativa, carta prepagata ricaricabile, utilizzabile per gli acquisti. Per l'anno scolastico 2022-23 le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2022-23 dovranno richiedere la carta dello studente consegnando presso la segreteria scolastica l'apposito modulo. Per il prossimo anno scolastico è stato previsto che in fase di iscrizione online dello studente alla scuola secondaria di secondo grado le famiglie potessero già esprimere il consenso per il rilascio della carta Io studio. Dopo che la segreteria avrà espletato tutte le procedure di propria competenza, la carta dello studente sarà distribuita a scuola a tutti gli studenti frequentanti il primo anno di corso entro il termine dell'anno scolastico.